Allora, la squadra di Palazzo di Milano rappresenta questo firmamento da tutti i concorrenti della squadra, la maglia ufficiale per lei, questa gliela do, gliela consegno. Grazie per l'iniziativa che stiamo facendo, come dire, caccia di Sanagrari, abbiamo rincontrato anche un'altra gente che possa in qualche modo piacere in questa finanza e noi siamo qua, ma volentieri, volentieri. Grazie per l'iniziativa. Grazie a tutti.